salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi vi spiegherò i segreti dell'overdrive come primo segreto vi mostrerò che i brawlers che supportano l'overdrive sono aumentati ragazzi prima c'erano solo quattro pros ovvero quelli primari del gioco ovvero colt bull shelly ora ragazzi come vedete l'overdrive è supportato anche da questi bros qua e non sono quelli primari ovviamente ancora non ci sono tutti ma con i prossimi aggiornamenti arriveranno anche sugli altri bros magari chissà arriverà su un 8 bit oppure immaginate cavi o meglio ancora gas come secondo segreto ragazzi l'overdrive è aumentata la sua durata a tre secondi siamo in collaborazione con scorpion un mio amico ragazzi su questo gioco faremo siamo fortissimi ragazzi come potete vedere la durata dell'overdrive è più consistente dure di più un altro segreto ragazzi l'overdrive potenza anche i gadget ora vi faccio vedere che cosa abbiamo anche vincere ragazzi comunque come avete potuto vedere il recupero salute mi ha generato la salute massima vi dico che per sbloccare l'overdrive ci vogliono il doppio dei punti che ci vuole per toccare la super ragazzi adesso vi faccio vedere guardate la super e carica l'overdrive invece a metà come quinto e ultimo segreto ragazzi non meno importante anzi forse il più importante quello che sicuramente interessa a tutti i ragazzi se acquistate overdrive direttamente cliccando su un personaggio adesso vi faccio vedere qui cliccate sul personaggio di cui non avete l'overdrive tipo io colt non ce l'ho lo voglio acquistare ragazzi 5.000 ragazzi la metà praticamente rispetto a quanto lo acquistate in negozio ragazzi adesso con i segreti che io conosco è tutto se voi sapete altri segreti potete scriverveli nei commenti ragazzi io sono felice di usarli e di farli vedere ragazzi ci vediamo in partita andiamo ad usare davvero questi overdrive per come si usano vediamo tutta la potenza di questi overdrive ci hanno cerchiato incredibile guardate questi qua guardatevi ragazzi perché io non ho far over speriamo che il mio amico si salva almeno dobbiamo vincere tutte le partite dobbiamo vincere tutte le partite e non farci prendere a nessuno ragazzi perché sei già pronto a allungere potenzialmente a me ne vado va fuori figo hai rotto il cazzo hai rotto vattene da qui ma tu lo vedi a questo io non lo so se muoio bestemmio se muoio bestemmio lo giuro questo si crede di farsi il figo ma in realtà è solo un coglione di merda speriamo che il mio amico si salva almeno arriviamo terzi dai vabbè terzo posto ragazzi è uno schifo comunque ragazzi rotto 50k i trofei non sono soldi magari erano soldi ok tre casse di fila tutte quante prese per fortuna non so se basteranno nemmeno queste non lo so dai che facciamo sei guarda edgar del cazzo edgar di tegron palle proprio un'altra partita terzo io non l'accetto beh certo lui spara direttamente a noi non esiste nessuno più figlio di puttana è meglio che ce ne andiamo da qua tanto questo dove andiamo andiamo ci viene a prendere figlio di troia sto cazzo fratellone sto cazzo e sto cazzone oh mio dio allora sei proprio c'è ci resti 40 capo da in bocca l'ho ucciso bastardo Enza di sti coglioni proprio il fumo ti ci devi intossicare nella camera dove stai giocando proprio me lo so praticamente mangiato non ha visto nemmeno io che lo sparavo guarda sto figlio di puttana ma che cazzo mi blocchi cosa mi blocchi ma io ti uccido ti vengo a prendere figlio di puttana l'ho ucciso di nuovo non ti posso credere però grande il mio amico che mi ha venticato grande scorpion tu proprio tu con sette power up sette volte nel culo la devi prendere me la son mangiata da shelly stavolta oh mio dio grande scorpion uccidiamo questo qua uccidiamo sto limone qua a me si rende invisibile ma io lo vedevo lo stesso ma che cazzo è io me ne vado a fare in culo va è meglio che ce ne andiamo a fare in culo ma che cazzo è lì oh parco dio questo comincia a rompere i coglioni proprio così io non ho parola e ti pareva che mi lanciava una coglionata proprio di quelle grosse ti pareva ma io ti mangio coglione due coglioni ci sono due non uno anzi quattro ne hanno lanciato ma vedi che con le palle non si gioca così e si usa in un altro modo e spara 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 va continua a sparare ecco qui il lanciapalle lì ma questo non moriva porco demonio che cazzo è che mi ha lanciato cos'era ragazzi ci sono cose nuove che io non ho mai visto ah se lo prendevo piccatele nel culo queste palle addio scorpion oh mio dio io non ho capito cos'è quella cosa lunga che lancia questa circontato sono al centro della guerra proprio non ho speranze di sopravvivere qui dai uccidilo 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 vai scorpion oh mio dio 12 power up cioè non abbiamo praticamente nessuna speranza di sopravvivere qui e in effetti non ne avevamo speranze così è stato la cosa più divertente che dovevamo essere quelli forti noi non abbiamo vinto nemmeno una partita non ho capito non ho capito non ho capito